Sono in 8 al via, 6 al primo nastro, 2 al secondo, all'1 Zoom Griff, al 2 Zucchero Jet, al 3 Zeus Sword, al 4 Zeus di Casella, al 5 Zadig del Ronco, al 6 Zelante OS, a 20 metri, 7 Zacinto DL, 8 Zio Primio OP. Primo segnale che dovrebbe essere subito valido e si porta al comando con il numero 3, Zeus World, che va a precedere Zeus di Casella, quindi ancora Zoom Griff, mentre ha preso la via del largo con il numero 5, Zadig del Ronco. Così lungo la dritta di fronte con Zadig che va all'attacco di Zeus World dopo 400 metri, passati in 30 appena abbondanti. e quindi passa su Zeus World, Zadig del Ronco, che conduce, mentre più indietro c'è con il numero 4, Zeus di Casella, che ha all'esterno Zio Primio OP, che è stato veloce dal recuperare la penalità. Si va così adesso in un buon 59 abbondanti, quasi un minuto per gli 800 metri, con sempre al comando il numero 5 di Zadig del Ronco, che si va a portare la curva di destra con all'esterno Zio Primio OP, poi ancora con Zeus World, quindi più indietro provano adesso a farsi vedere gli altri, con all'esterno Zoom Griff, ma intanto di fronte, con ancora Zadig del Ronco, a condurre nei confronti sempre di Zio Primio OP, poi più indietro con l'uno Zoom Griff, ma a debita distanza, quindi via via gli altri, quando si va ad affrontare la parte terminale, la piegata, con Zadig del Ronco, che è ancora leader, con 3 di margine nei confronti di Zio Primio OP. Zadig che affronta l'addirittura d'arrivo al comando, Zio Primio, che è un stanco e si deve adeguare anche qualche problema di andatura, Zadig che allunga e va a concludere in maniera assolutamente agevole, finisce con lo sbagliare Zio Primio OP, Zadig del Ronco, che viene a concludere, mentre per il secondo, alla fine dovrebbe essere forse Zoom Griff a ottenere la piazza migliore. Andiamo a rivedere, intanto misura anche questa piuttosto interessante, nell'ordine dell'1,15 scarso, con Zadig del Ronco, che vedete che si allunga lungo gli ultimi metri dell'addirittura d'arrivo, Gasparino Verde subito al doppio dopo la vittoria della corsa precedente con ufficio oggetto, 5 al primo posto, per il secondo posto ecco spuntare con il numero 1 Zoom Griff, mentre per il terzo con il 7 Zacinto DL a precedere e con il numero 2 Zucchero oggetto. È tutto per questa quinta dalle capannelle, successo di Zadig del Ronco, Gasparino Verde alla guida al training, i colori del team BLV. Grazie a tutti.